La futura scuola di Carrara Cucurano, attesa da oltre un decennio da tutta la popolazione di questa zona di Fano, una volta ultimata sarà il fiore all'occhiello dell'edilizia scolastica comunale. Un concentrato di efficientamento energetico, suddivisione degli spazi, ergonomicità, fruibilità delle strutture e normative antisismiche. Ma oltre a dare ai giovani studenti il meglio dell'attuale conoscenza in materia, sarà tutta la popolazione ad usufruirne di questa moderna struttura, essendo alcuni spazi concepiti a priori per essere permeabili alle iniziative esterne e quindi aggiungere potenziale di sviluppo civile e sportivo della società fanese. Creeremo questo polo scolastico che sarà un po' di più di quello che è un tradizionale polo scolastico perché la palestra sarà aperta al pubblico, la biblioteca che abbiamo pensato sarà un civic center che potrà essere utilizzato anche fuori dall'orario scolastico, però quello che ci interessa davvero è che qui i lavori stanno andando avanti, stanno andando avanti anche in maniera buona, stanno procedendo secondo il nostro cronoprogramma, le attività si vedono, insomma sono lì e dalla posa della prima pietra che abbiamo fatto a novembre i progressi si iniziano a intravedere, stanno costruendo quindi una nuova scuola per i bambini di Carrara, Cucurano, Rosciano eccetera e io credo che questo sia un elemento molto positivo. Siamo in orario con i programmi, stiamo lavorando per l'accessione anticipata di un pezzo di terreno per creare un collegamento con la strada, con la via Flaminia come avevamo promesso tempo fa e quindi mi ritengo molto soddisfatto di questa attività che comunque controlliamo, monitoriamo giorno per giorno, settimana in settimana perché insomma arrivi presto a compimento quello che da tanti anni, almeno 20, questa parte di città di Fano aspetta con ansia per i bambini e non solo perché abbiamo detto ci saranno attività anche aperte al pubblico. Secondo una stima positiva il taglio del nastro presumibilmente quando si potrà fare? Allora io penso nel 2020 ci potrà essere il taglio del nastro, i cantieri di solito durano 18 mesi perché fuori da questi tempi sono antieconomici e quindi io mi auguro che nel 2020 l'amministrazione potrà, la città di Fano potrà godersi questa nuova struttura e chiudere veramente quelle vecchie, fattiscenti, scuole sparse che abbiamo nel territorio che appunto sono appunto da chiudere, da riconvertire.